Siamo contentissimi, il gruppo ha preso la notizia con entusiasmo, eravamo un pochettino come un carretto, come una Ferrari con la roulotte attaccata. Inizieremo a breve a presentare il nostro programma, i nostri candidati cittadini, portavoce del Movimento 5 Stelle. Siamo felicissimi, iniziamo questa campagna elettorale con buoni propositi e tanta speranza. La lista è pronta anche perché la certificazione si ottiene mandando tutti i requisiti allo staff per essere certificati. Sarò io il candidato sindaco e mi auguro di iniziare un buon lavoro sia in campagna elettorale e un buonissimo lavoro se dovrà esserci le amministrative a nome sotto il segno di 5 Stelle. Parti in sicuro, diciamo come tutta l'Italia, abbastanza articolata. Ci sono vari problemi e ogni problema va preso singolarmente, punto per punto e va approfondito. Non si può dire in campagna elettorale che si fa questo, si fa quell'altro. Bisogna stare sul pezzo, bisogna stare su ogni tematica e studiarla veramente fino in fondo.